A proposito di bombe di guerra e cose, in Sicilia hanno fatto una pensata che solo in Sicilia la potevano fare. Dice che Einstein era siciliano, no, ma solo meritava. E allora hanno pensato questo, si sono riuniti un gruppo di persone autorevole, il più autorevole di tutto, ha preso la parola, dice con questa Italia che ci ha da fastidio, basta che non ci andiamo bene, facciamo una cosa, ci stacchiamo dall'Italia, diventiamo uno stato autonomo, dichiariamo guerra all'America, la perdiamo, che è questa la furbizia, diventiamo una stata americana e così ci arrecchiamo. C'era uno che stava lì nascosto, dice scusa posso dire una parola? Ci prego, dica. E se la vinciamo? E' per questo che io sono ottimista, che Dio vi assista. Baciamo le mani a tutti.